Subitissimo, e vabbè cambiamo la skin adesso che mi ha stancato questa skin Mettiamo questa dai, non la metto da un sacco di tempo Cioè penso l'ultima volta che l'ho usata era la stessa season, season 6 penso Vabbè cambiamo anche altre cose, ma in realtà ho già cambiato prima per esempio questo del tablano, vabbè dai Mettiamo questo qua, è bello eh, questo del tablano Poi cambiamo anche, no il piccone non lascia, mi piace questo piccone E poi cambiamo anche la scia, mettiamo, 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 mettiamo Questa scia Spera, mettiamo lo stile, ma quanti stili c'ha questo? Spera, vediamo che cambia Quello bianco è bello comunque Mettiamo quello bianco dai Ok va bene, no non l'ha messo, vabbè dai fa niente, mettiamo questo qua Vai avviamo subito Facciamo una singola e poi cambiamo, mettiamo qualche mappa Eh, la creativa, vediamo hide and seek Ma con chi puoi? Boh Oppure giochiamo una mappa box fight con gli altri Non lo so, poi vediamo Dai sta startando la partita Colpi alla testa e frigo non lo dai voli danni, mi do sempre Ok Dai, prova a fare una vittoria reale dai Ieri ne ho fatto una con il mio amico Anche se laggava un botto ieri non so perché Penso che adesso vada bene, boh non lo so Cioè faceva tipo Ah no, no, ti muovo raga 100 di ping Non ci credo Se lagga come ieri Non riuscirò mai a fare una vittoria reale Quindi Spero che non lagghi Già entrato in game 100 di ping Dai Vabbè dai adesso 33 Meglio se non parlo raga Qua Allora Torriamo dove? Dove torriamo? Moni molesti No Laggola un guido dai Oh come si pinga Prima si pingava con R1 Mizzera Ha cambiato tutto qua Dai Torriamo subito Laggola un guido Comunque là c'è molta gente Di solito Voi vediamo cosa c'è Che c'è Che non c'è E c'è anche tanto loot Quindi Ci sta come è posto Andiamo Ma sono sempre gli stessi edifici Hanno fermato qualcosa Boh Vabbè dai Allora vado Non lo so Non lo so Non sono gli stessi Andiamo qua Questo palazzo Questo edificio qua Questo palazzo Vai al palazzo questo Ok Allora Allora Non vedo gente per adesso Penso che Siano No che sono andato a ragione In un'altra parte Ancora sarò in volo Cioè In pratica Sono l'unico Tizio al mondo Che va All'ago all'anguino Ah no c'è Ok c'è qualcuno Stai Aspetta Eccolo Non era un bot Però Vabbè dai era un bot Per me O solo perché non c'avevo armi Ragazzi sicuramente perché non c'avevo armi Sembrava forte Però Dai Ma Oltre a lui Non pensa che non è atterrato nessun altro Però Dai Caccia Mi dispiace vedere un caccia verde Raga Fa schifo Però 52 toglie Quindi Ci sta Per essere Un cecchino Verde Scarra leggendario Raga Prendiamo il medikit Vai ce le facciamo Eeeh Allora Cambiamo qua Scarra leggendario Un pacco regalo Incredibile Non c'è nessun altro O cosa Non sento spari Non sento nulla Alla Se non mi sbaglio C'era Una missione In cui dovevi entrare Può uscire Ma Non ricordo Vabbè dai Cambiamo sto schifo Con il tattico Dai Allora Adesso non lagga Non come ieri Fa 40 Cioè Sta a 40 di ping Però Spero che non laggi dopo Adesso va tutto bene Non c'è gente E un po' mi dispiace Allora Guardo verso Il centro Della safe Vediamo se c'è qualcuno Eeeh Se no Non c'è divertimento Qua Andiamo col motoscafos Dai Yes Mister Non lo so Usare Mi sa che con R2 Si partiva Non c'è un missile Ma no Dove sto andando Destra C'è qualcuno No Finite mazzo Mi Ho visto Mi No Non c'ho mazzo E' vero Mi stavo per uccidere Questo Ma come è possibile Spesso Prendo il medit Anche se ce l'ho già Però Dai Subito Facciamo un gil medit E poi Andiamo verso il centro Della safe Colossale Dove non andare Dai Però Cambio subito Mitraglietta Questa non mi piace Questa Mitraglietta silenziata Non piace tanto Spero C'è questo Mi ha tolto tutto lo scudo E quasi Mi stavo per uccidere Andiamo verso il centro E poi vediamo che si fa Speriamo che ci sia gente Anzi Prima è meglio trovare il shield Scudo E poi Se va avanti No Ma Ragazzi Non muoio no? Non muoio no? Ok Non muoio Ma vabbè Andiamo A piedi Nuotando Senza il nostro Amico Motoscapo Però Andiamo verso Ma qua è Ma qua è Guarda la struttura Di Magazzina Muffito Ma che è L'hanno rimesso Però non c'è il nome Strano Ma Qua Ma questa è Magazzina Muffito La struttura O cosa Penso di sì Comunque O no Se sono due Magazzina Muffito Però Allora è solo uno Magazzina Muffito C'è Un Edificio Però Ce ne erano due Però non so perché Ne hanno messo uno Però Ce li facciamo Ce li facciamo dopo Qua sta il catch Ce lo segniamo subito Chest Subito L'apriamo Mitaglietti No C'è gente Penso Ho sentito qualche sparo O cosa Ho sentito qualcosa Poi Buh Facciamoci le splash Spero di non trovare I cildini Da nessun'altra parte Che sono in cavo Ok Due kill Vabbè No Uno era senza Uno Mi stavo quasi per uccidere Menomare che l'avevo aiutato Con lo scar Sennò Bye bye Dove andiamo Con lo stile o con lo stile Vai Ma dai Si pinga con la X qua Mannaggia Non dimentico Andiamo No Questa non si può spaccare Pensavo che si spaccasse Però Andiamo qua Vediamo se troviamo Scudoni Vabbè Li chiamo scudoni Poi Non so Come si chiamano Scudi giganti Adesso Certi lo chiamano In veri modi Io lo chiamo Scudoni Dai 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 Allora Mi ha detto Una amica ha detto Che Scommercia con questo tizio Lì in mio giocatore E poi Che Oh C'è qualcuno Vediamo Se troviamo qualcosa di buono E non so Mi prendo questo No Dai Prendo il caccio E basta No Wey Dai Prendo i shieldini Sicuramente Lei avrà qualche Cura Poi Vabbè Io prendo i shieldini Sono più veloci Da usare Allora Ragazzi Verso C'era qualcuno Da questa parte Verso Sud est Però Non trovo Nessuno Non vedo nessuno Adesso Poi Non so Forse ho visto qualcuno No Non ho visto nessuno Dai Strano Però Ma che Ah no Mi sogno le cose Ragazzi Fortamente mi ha rimbambito Un po' Non è vero Dovevo andare a colosseo Colossale Spero inizi a laggare Perché sennò andiamo male Dopo quando c'è gente Volete vedere che quando Ci sarà un tizio Davanti a me Laggherà un botto Arriva a 100 di ping Va avanti Poi va avanti Indietro Sicuro Sicuro A destra c'è già Ma qua vicino stava Sta qua davanti Togliamo sto ping Mannaggia Sta qua Ragazzi Ma che smirci Penso che era un bot però No No raga La mira Si è andata via Non botto Mi Stava per uccidere Questo Allora Prendiamo questo Prendiamo questo Facciamo uccidere i shieldini Ma che pompa aveva raga Mi ha tolto tutto però Spire Carigliamo Ma che è un caccia Fucili di precision Anban Vabbè dai Vediamo cosa c'è Ah io ho lasciato il medikit Qua Però Allora ci facciamo il medikit E poi Oh no Boh Non mi ricordo se stava qua Sì Ci curiamo E poi andiamo a colosso colossale Ma Tutti vengono da me Allora curiamoci Allora adesso Poi vediamo Allora sicuramente qualcuno mi cecchinerà In questo momento esatto Incredibilmente Però Andiamo qua Vediamo chi c'è Ah no è vero dove andrà a colosso colossale Ma raga c'è una memoria proprio Spacchiamo qua Vediamo Vediamo quella roccia strana Per andare più veloce dai Dai Spacca Andiamo Vamos Vamonos Andiamo 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 qua Sariamo Come c'è gente Da quella parte No Non c'è nessuno Per adesso Guarda sicuramente c'è gente Raga Mi Ho sentito in ritardo Sto suono Mi Quanti malto c'ho No No raga sto costruendo come Non so cosa Prima mi ero allenato Mi sono allenato C'è qualcuno qua Aspetta Due Raga Mirala Puliamoci veloci No Puliamoci Subito Spero che ci sia gente A destra Perché Sennò Sono morto Dov'era Sulla montagna Dove sta Ma Non è che è morto Aspetta che io Vado da lui Sta campionato qua No Oh raga Come sto Modificando Da schifo Dov'è però Raga Dov'è Cavolo Di cecchino No no Raga Raga No No Come Sono morto Raga Come si usa Sto cecchino Come si usa Sono morto Per sta sciocchezza Oppure Ho smirato Con quel tizio Smirato Eh Facciamo un'altra Dai Raga Non so usare Non so usare Certe armi Sono strane Cerchiamo di fare Vittoria Adesso Questo Momento Dai 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 Colpa di quel cecchino Era meglio se lo buttavo via Era meglio il caccia Secondo me Cioè va bene In realtà Perché non lo so usare Sto cecino a ste cagate Però Avete C'è una mira poi Io non so cosa Lo schifo Però Avete visto che schifo Raga Avete visto che schifo Raga Vai la Salve bro Dove andiamo Andiamo a un posto Dove c'è tanta gente Che solo mi annoio qua Covo del cacciatore Ma che Andiamo Vabbè andiamo a covo del cacciatore Non so Che c'è là Però Andiamo Allora qua 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 C'è uno C'è uno de la neutral C'è una pistola Prendi c'è una pistola C'è una pistola Eh no Mello di niente Una tattica Sub Possiamo usarla come armi a distanza Mitalinetta subito Buttiamo questo schifo Allora Per il momento solo munizioni E nulla In realtà abbiamo trovato due armi buonissime Però Dico un assalto ci serve pure Ah ok assalto incredibile Basta pronunciare poi Guarda E si trova una cesta Vediamo chi c'è Spariamo l'ultimo Dietro di me Ah non sono dei botti Sono dei botti Quasi mi uccidono Spariamo Spariamo quel tattico Lo so che mi Ah no si sta fuori Dove Un tetto Ma dove la Qua Silenziosamente Andiamo a ucciderli No Se mi vedono quelli Ok dai Dobbiamo buone armi Sono i materiali Dobbiamo farmare un po' Ragazzi Ragazzi non sono bravo a formare Perché ogni volta riconsumo E poi Boh Non rifarmo mai Dove c'è 54 Andiamo verso il centro Della safe Sempre Ma dai ragazzi Sempre con lo siano Con lo siano E al centro Una mela Ma che è Ho preso una lucciola Un assetto di lucciola Basetto 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 di lucciola Non mi serve A mio amico Mi ha detto Che si esplode Però Cioè Che esplode Se il volo La devi lanciare Poi Esplode come una granata Dove un po' Non lo so Non l'ho provato Andiamo Andiamo verso il centro Poi Centro 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 Non c'è nessuno Adesso Non c'è nessuno Con la scuola Sicuramente c'è qualcuno Però Siamo un bel po' Distanti Però come La morte di prima Raga Proprio Faceva schifo Umiliante Poi Ah non c'è nulla Non può Uno scudone Raga Proviamo Se troviamo uno scudone Sta tutto bene Questa parte Non Non c'è Non c'è la sotto Ci devo scavare Ah la stessa Se c'è qualcuno Raga Poi facciamo un po' Di creativa Che Se no Ci annoiamo A morte Non c'è mai nessuno C'è la maggior parte Ci sono C'è Nella mappa Ci sono dei bot Dei bot Player Che giocano Proprio Noioso Cioè Questi stanno fermi Spaccano I muri Poi Sono C'è Occupano La lista Di giocatori Però Vabbè Nelletta Blu Ce l'ho già Uno scudone Uno scudone Uno scudone No Non c'è L'ultimo qua Il radiente Senza Blu Non la prendi Finalmente Un caccia Raga Decente Non prenderò Più Quell'arma Mai Più Mai Più Dove si trova Ah ok Questa parte Penso No Ecco Con la Sella La stalla Non c'è Nessuno Che noia Che noia Che noia Che noia Solo dei bot Si sono Sti botti inutili Ma che servono i bot Mi spiegate Solo per il loot Però Sono inutili Proprio Ma stai inseguendo Cavolo Che vuole sto bot Se va Raga Me lo trovo dietro Ok Non mi sta seguendo più Penso No Non penso Salve signore Salve Salve Dai Un scudone Nulla Solo Shieldini Solo Shieldini Devo lutare un po Cioè Devo far male Quella via Sul tetto Nulla 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 Ho già stato aperto Questo Incredibile Raga Dove andiamo? Dove andiamo? Qui ci sono Qualcuno Però Eh Grandapiccicose ci sono Qua No Non penso Non c'è nulla Sto schifo di gioco Però Sicuramente qua c'è gente Sicuro 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 Però Non so dove No Non c'è gente C'è solo un bot Che sono inutili Come Non so cosa Cioè ti danno qualche arma Per nulla Che puoi trovare in giro Però Speri chi sono loro Non ha senso Non ha Oh ragazzi C'è qualcuno L'ho visto L'ho visto Mica smircio L'ho visto Saltare Eccolo L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Miser No Ok Non penso Che era un bot Comunque Raga Date il tetto Che non l'ho usato Ah no Ok Non l'ho sparato Meno male C'è un medit Qua Ok Adesso Non c'è nessuno Però Io voglio Voglio gente Raga Non c'è nessuno In questo momento Dai Non c'è nessuno Vuoi shieldarmi Dai Mi hai dimenticato La cosa fondamentale Shieldarmi Ecco Dai Voglio gente Raga Where is Gente Where is Where are the people Where are the people Where are C'è nessuno Ok qua Hanno costruito una struttura Ok Non l'hanno costruito I player Qualcuno Qualcuno Per favore Qualcuno Ho sentito Uno sparo Incredible Dov'è Sto camperando C'è nessuno C'è nessuno C'è nessuno Scendo Però verso il centro Quindi Adesso dovrebbero venire tutti Quindi Aspettiamo sta gente Ma ragazzi C'è qualcuno Mi che smircio Di nuovo Di nuovo Ne avrò visto Ah un bot O no 104 Dai Qualcun altro Muo mi cecchino Questa c'è gente Da quella parte Però Eccolo No Per poco Carichiamo Dobbiamo di ucciderlo Questo Dov'è Eccolo Dai Fatti vedere bro 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 Eccolo Oh Stai fermo No C'è chino Da quella parte Si sta curando Sono morto Sono morto Anche se è un bot Mi sembra Eccolo No Non è un bot Raga Questo Dai Perché Camperi Spero di non morire Raga Come prima Cadendo Ecco Grande Andiamo Di ucciderlo Spero che Stalla Non sia andato via Però Eccolo Stai fermo Non sono fatto scappare Dov'è Dai Noi Non mi sono colpito Con l'assalto Spero di non colpire Il bot Raga Dai Sta qua Sta qua Penso O se n'è scappato Via Non lo so O sta mirando Qua Raga Dov'è 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 Raga Donovan Bote Eh Dov'è Dov'è Andato Oh Raga E' Sparito Where is Where is Where is Secondo me è campionato qua? Shiftato Davanti alla porta Ma il bot che cammina Sì il bot Ma dove è? Ecco ho spiegato solo materiali Ecco Sto andando qua ho spiegato solo materiali Dove è andato? Oh mi rubano la kill quelli E' sparito Spara coi bot Uccide Rana Uccide Rana Non è che è sceso qua poi è andato verso destra No c'è la tempesta là Quindi verso sinistra ha fatto il giro Può essere Oh raga sono qua Sono qua No raga Ah sta là dentro il campo Campo di pieno Ma raga No Dov'è? Dov'è? Il cerchino Il cerchino Vabbè questo cerchino va bene Usa il caccia Meglio Vabbè dai uso il caccia Se no L'assalto blu No raga Spero che inizi a allargare Allargare Non c'è la zina Non lo prendo dai No raga Senza allargare Abbassati dai Ping Schifoso ping Ieri Ha laggato un bot Spero che Ma poi Quando rimangono per esempio L'ultime dieci persone Inizia a allargare Non so perché Però Vabbè dai Adesso ho 32 di ping Ecco 60 di ping Che bravo che sono È nascosto qua Per tutto il tempo Non male che ha sparato Sto tizio qua Questo è oro Ok Tattico Ok vabbè basta Andiamo Verso No 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 raga 120 di ping 150 Prova adesso Prova adesso Proprio adesso Ma dov'è adesso Cioè Ho sentito qualcuno Ma era solo il bot Raga 100 No raga Sta salendo da 200 Adesso Ah no che Si sta abbastando Dov'è Dov'è So Dov'è Ecco Sono forti ragazzi Io non c'ho Un mazzo Ah non ce n'ho Però non tantissimi Non tantissimi però Guarda Pensavo che fosse un player Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua Sto qua No No raga No raga Dove già finire Maz Raga Dove già finire Maz È caduto Non so dove Ecco No raga No Oh si sta shillando questo No raga Non c'ho mazzo Non c'ho mazzo Rimaniamo qua così Oh c'è la tempesta Muoio Buttiamoci No raga Oh cavolo Non c'ho mai di kit Non c'ho nulla No 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 Sta qua No no Da sotto l'acqua Da sotto l'acqua Non ho sentito nulla 27 di piva Si è scildato Vabbè dai Terzo Che schifo No 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 Dorniamo in lobby Facciamo qualche mappa Ok Ok arrivo Dai terzi Ci sta però C'è fatto un po' schifo Sto partita Per essere Arrivati terzi Però Dai un po' di creative Questo Ah c'è chi È bellissimo Raga questo Ma mi porta In creativa Una partita Allora vediamo Cambiamo skin O cosa Vabbè Mai iniziata È bella sta modalità An creativa Modalità An creativa Ragazzi Vabbè Una delle migliori modalità Che ci sono Che ci sono Su fortnite In sé In sé Ci si gioca È bello Può essere tipo Lo sniper È difficile Confronto ai corridoi Mi chiedevo una corpo Noi Ah ok Pensavo di essere l'unico Ah c'è chi in alma Cambiata Hai cambiata la mappa Però Oh che c'è chi Nostro arm Usa il semi Automatico No raga Beh Saltano sempre Questa 78 Ok Ho ucciso Uno Ho ucciso Termiamo No raga Usiamo un altro Cerchino Usiamo Ma dai Questa non si va a uccidere Non troppo lontani No no raga Vendo quelli in alto Che sto aspettando Raga Non ci sto io Ho usato questo Dai Questa è meglio Ah Dai raga Io ci sto solo uno In tutto ciò Se come la vecchia mappa Dovrebbero andare con l'aereo Per fuori di noi Non so dove Penso di sia Se è come la vecchia mappa Però non so se Mi hanno cambiato qualcosa Ah non c'è questo Ancora Uè bro Stai fermo Raga Non è il nostro Amico Che ci fa là Ma raga Come l'ha preso E' 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 come l'ha preso Esci 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 Ma io rimango sempre fermo Eccolo Ma raga No Esci Ma c'è solo Ah ecco C'è un altro No Dai fatti prendere bro No 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 Nostro amico Ma come fa No Andare là Ah Come fa Ma raga Ovviamente Quello L'ha preso Io No 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 Altre gente Ah Il mio amico Ce ne sono due Eccolo Ma l'ho preso io In total ho fatto una kill Le altre ne hanno fatti Cinque Sei Adesso Snipers Uno Salute Uno Uno Come si fanno a vedere le kill Non si vedono Raga io faccio schifo in questa modalità Prima ero un po' più forte Però Sì Ieri No raga Togliti Togliti Cerchiamo di scappare Quello vicino Vedete Vedete quelle due persone No Il terzo Mi vuole cecchinare Il secondo Non lo so Guardate Non mi vogliono cecchiniare Non mi tengono sotto Mira Basta non saltare Poi non ti uccido Non ti uccido No raga Valtene frate Non è che c'hanno queste ringhiere Sono Sarei morto Dubido Lotto No togliti Togliti Mannaggia No Allora No intanto Questo è pratico Una lietta Vediamo Questo del pompello Vediamo questo Ci sono pure qua Palloncini Non ha senso Non ha senso Guarda Ragazzi Non ho Non ho Non ho Non ho Non ho Sono spettatore Ah non sono spettatore Devo rifare tutto Al cavo Ma dai Ah perché sono arrivata Alla fine O cosa Non c'entra Cinque volte Devo ucciderci Penso Ah no Non lo so Non lo so Non lo so Dai 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 Prendiamo un'arma Saliamo Non mi stanno calcolando Però Vabbè dai Non me ne frega Tre persone Mancano Allora Sentite Vado con i palloncini Con i palloncini E poi Sempre se li so usare Ecco l'impulso Palloncini Impulso Impulso Palloncini Ma dai ragazzi Iniziamo a laggare Mi muovo 115 Scende Sale 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 Grande 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 Grazie mille I anni Non si può più rientrare Abbiamo due vite Penso Tre sniper E cinque Fuggiti Però Dai ma che fai Brovert Basta di abbandonare C'è qualche Altre modalità Bella Proviamo Una mappa Fight Fight Box Fight Non lo so Se ci sono Multiplayer Ma no Davvero Ho raggiunto Il vecchio parco giochi Quello della season 5 4 Non mi ricordo Gioca Crea Gioca 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 Gli altri Vediamo chi c'è Che mappa c'è Che mappa c'è Dai Spendiamo una divertente Se no Se no Nulla Facciamo poi Una singola Non lo so Vediamo Che mappa è sto Box Fight Dai in 14 Era meglio in 10 Però Io vedo quante Che va Nella mappa Vediamo Dai Devo aspettare Che il disco C'è una mappa Simile Però È la più grande Era bella Quella modalità Però non mi ricordo Come si chiama È arena No Non è arena Quella arena Arena Però era bella Quella mappa Con la modalità Non so che C'era Raga Ah non è il mio Dai ragazzi Poi non ci darò qualcuno Qua Che ne ho visto o no Morirà sicuramente Scappiamo 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 No Non è Non è Raga Raga oh ma prova a me doveva colpire sto questo ho fatto zero kill una tra virgolette rubata però questo ho vinto io ho fatto due punteggio zero eliminazioni fake hacker come ha fatto a scrivere fake così piccolo ora mettiamo il pesce qua ok oh raga ma questi non si sparano raga questi non si sparano raga ma stavano vicini prima perché non si sono sparati raga questo è ingiustizio cavolo perché non si sono sparati erano vicinissimi ma devo aspettare di vedere sti scemi 11 2 di punteggio ha vinto di nuovo lui penso che è lo stesso si è lo stesso lo dai due volte ha vinto e ancora con due punti si è lo stesso aspettiamo no raga aiuto aiuto grande meno male che c'è l'automia qua bam 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 due di punteggio ancora il primo è forte comunque ma che aspetta di ucciderlo oh raga oh raga perchè non l'ho ucciso prima stiamo giocando insieme stiamo giocando insieme stiamo giocando insieme oh raga io abbandono torniamo al centro c'è sti scemi giocando insieme ok la tempesta mi frega vediamo che mappa scegliamo 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 hanno messo delle mappe belle cos'è eh facciamo è più divertente almeno possiamo scegliere noi le armi penso no no non prendo questo pompo quella salve ma le altre armi dove sono ora inizia la gara dai ah sono solo queste le armi vabbè no oh raga stai iniziando a laggare dai wiii scar ma non c'è altre armi oh scar leggendario qua poi prendiamo questa pompa no raga sto laggando quella salve a casa l'ho ucciso quello però vabbè dai salve bro oh tutti in a me qua scappa 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 subito volevo il caccia bro non lo trovo oh 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 sono tutti qua sotto in tre probabilmente dovete fare no raga si bravissimi bravissimi questo l'uccido davvero proprio da me proprio da me doveva venire no guarda volevo mi spara bravo 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 sei molto veloce a costruire no raga ma alcuni blocchi alcuni blocchi non stiamo su minecraft alcune costruizioni non le costruisce a volte 60 di ping no raga a volte non costruisce il muro che è ma è il server no raga ho messo il muro no raga non ci credo proprio no raga non costruisce 200 di ping dai abbassati no raga raga 200 di ping facciamo la cadere dai vai già se sono non ci credo eccolo eccolo laga di nuovo di nuovo non ci credo ma va ma va ma muori ma vattene è lo stesso di prima tutti da me raga uno non ce n'è che uccide l'altro solo c'è la da me che uccide l'altro che uccide l'altro che uccide l'altro che uccide l'altro non ci credo mi ha rubato la kill mi ha rubato la kill ma chi non uccide l'altro che sta fermo tutto il tempo grande grande uno mi ha trovato tutta la via ma raga questi hanno una fortuna ciao bro piacere di conoscerti meno male meno male c'è una raga alcune per esempio l'uno a volte non lo costruiscono no raga raga ruga raga ruga raga ruga raga no raga a volte lo costruisce 200 di ping dopo 10 anni ha cambiato modalità uè bravi ma anche bravo prova a costruire questo questo oh uè raga Perché è una scala epico Mettiamolo subito Ciao bro Salve bro Non fare il fighetto più con me E lagga pure Vuole venire subito da me questo Un po' è schifo a costruire ragga Già da tutti i giorni questo Guardate che la Andiamo da lui subito No ragga perché non costruisce 200 ring Salve bro Uh cavolo Cavolo mi dai dietro da ricaricare No ragazzi adesso lo uccido Spera se l'altro non uccida da dietro però No ragga Spero che non uccida quello Eccolo Mi ha rubato la kill Bravo che sei Bravo bro Oh Ma che Ma toccino a me Oh raga Suggiamo subito questo Eccolo il cazzo là Uno dietro di me stava pure Sì ma chi è sempre Rigenerato il mondo Non capisco Mi ha rubato la kill Di nuovo Come al solito Sempre mi rubano le kill Queste Perché Vedo di me Mi lagga Mi lagga Raga 200 di ping È venuto Lui Sì Prova a uccidere me Pro Grande Sì Sì Bravo Bravissimi 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 Ma proprio Da Oscar Sì Da Oscar Proprio Infatti schifo a costruire Vieni da me Vieni da me Vieni da me Che Uccido subito Ragazzi Uccidiamo subito questo qua Subito qua Questo Subito Subito Sì Sempre fermi Di mamma Bravo E le flauti Bravo Bravo Spalmone Bravo Spalmone Bravo Spalmone Bravo Spalmone Bravo Tutti da me Yes Bravi 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 Tutti da me Tutti da me Come no Subito Subito Venite da me Siete bravi Ragazzi Ma qua proprio Un complotto Tutti contro di me Stanno Guardate Fermi Tutti Tutti a spacca Dovevo 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 Uccidere L'altro E' venuta Da me A Uccidere Mi No c'è rampino raga Ma l'ho visto Perché non l'ho preso Com'è che è arrivato primo con 4 Le eliminazioni Forse perché si è stato ucciso 13 volte Penso Può essere Tutti da me sono venuti comunque Dai prendiamo tutte ste armi Subito subito Un'arma decente Rampino subito Splash subito Prendi no Ok Solo la mitaglietta Solo la mitaglietta Solo la mitaglietta No 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 Nelita Dua Ok 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 C'erano pure le cure Io non le ho viste No ragà Ma questo proprio No Mi sta iniziando a laggare Non l'ho visto Non l'ho visto Dai Ok 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 Fermo tu Fermo Fermo Andiamo Bravo che sei Bravo che sei Caduto Oh Che bravo Qua sta Bravi camperoni Bravi camperoni Amici bravi Che siete tutti qua Ma dai Ma dai Ragà Oh Oh No Ma che No Devo riprendere le armi No Perché ne sapevo io No 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 Ma Fermo Splash Subito Bambino Subito Dai Lagga pure No 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 La scar preso Ok Minaglietta Pompa Subito pompa Pompa Quindi pompa Ecco Caccia Eccolo Finalmente Ho trovato No ragazzi Lagga 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 Splash E poi basta Qua stavano E basta raggare No raga No raga Lagga Ragga 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 Cioè Allora Questa gente Dopo che le sparo Dopo che le sparo La gente Scappa 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 Questa qua Eccolo Headshot Ma questa è una fortuna Con sto controller Che ha l'automira Beh anche io C'ho l'automira Però Dico Ha più fortuna di me Grandis No raga Adesso sto cimendo io Sto facendo il contrario Ma rieccolo Ma naga Io sono due Come fate Spawnare Qui velocemente Ci sono Va bene Salve Salve No che smirciu Dito di me Dito di me Lagga pure 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 No raga Ragga Che mi sono curato prima Ragga pure Ma sempre ripristinata Il mondo Però Basta Sparare In me Corriamoci un po' Ne ho visto uno qua No bro Viste che ha ciso qualcuno Guardate appena qualcuno Ah no Questa non c'ha vita Cioè Non c'ha scuro Ah Non è lui Stato ucciso Perché sono caduta Grande Grandissimo Grandissimo Vizio Headshot Headshot E' proprio Deve ricaricare Stava St'arma Qua Braccio Perché Perché non si sparano Guarda Vediamo se Fai da con l'altro Ragga Vediamo se Fai da con l'altro Questo Ma basta Leppristinare Il mondo Oh Eeeh Ci sono Mille persone Perché Che a me No 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 Ragga C'era quello Che saltava Basta Ti prego Basta Aia A testa Va bene Ragazzi Concludo Così la live A casissimo Mi ha scorciato Un po' Sto gioco Comunque Poi mi porto Altri giochi Rainbow Non lo so Vabbè Poi Vi porterò Un altro video Sempre Un altro live Su fortuna Vabbè ragazzi Se vi piaciuto il video Iscrivetevi al canale Lasciate un like Iscrivetevi nei commenti Se vi è piaciuto il video Ci vediamo alla prossima Ciao